Cisco, guarda, guarda, che dire ragazzi, bellissimo primo maggio, un bel ritorno dal vivo e tra l'altro un bel ritorno su un palco dove avete veramente scritto la storia anche di questo palco e soprattutto di questo primo maggio Sì, è un bel ritorno come dicevo prima, per me è come se fosse la prima volta Lo ammetto perché l'ultima volta che sono stato qui era tanto tempo fa ed ero da solo con il mio tamburo e dopo di me suonava Vasco Rossi, quindi ti puoi immaginare che situazione fosse e oggi qua siamo con dei grandi amici, con i ragazzi della banda Bardot e quindi sono circondato da grande affetto e amicizia e sarà completamente diverso, come dicevo prima, un nuovo esordio Finanza, diciamo che il primo maggio comunque negli anni è cambiato tanto, oggi c'è una nuova concezione anche di primo maggio in conferenza stampa si è parlato anche di un emporio della musica italiana, una specie di laboratorio anche per i più giovani che per la prima volta trovano anche una vetrina televisiva Ma questo sì, chiaramente il palco del primo maggio deve lanciare chiaramente dei messaggi quindi è un contenitore preciso, non è un talent, non è un'altra cosa però chiaramente deve essere anche uno specchio dei tempi, per cui deve dare spazio e voce a tutti se chiaramente sono coerenti con quello che è comunque la festa del primo maggio questa non è una semplice vetrina, questa è la festa dei lavoratori e volevo aggiungere poi alla domanda di prima appunto che per noi della banda è chiaramente molto 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 emozionante a 360 gradi perché chiaramente abbiamo calcato questo palco tante volte e chiaramente questa volta c'è qualcosa che ci manca, c'è una qualcosa che è aggiunto insomma per cui sarà una cosa per noi emozionante e come se veramente fosse la prima volta Ma quello che comunque non manca e non è mai mancato in questi anni è proprio la voglia di essere liberi la voglia di fare musica libera poi tra l'altro c'è grande curiosità anche per quello che sarà il progetto, il progetto musicale l'album in arrivo il 20 di maggio Sì esatto, abbiamo in uscita questo nuovo disco perché la collaborazione con la banda è nata pensando a un live, a un tour live però ci siamo trovati in studio e dai proviamo a buttare giù un paio di canzoni nuove e in quei 4-5 giorni abbiamo scritto praticamente 7-8 canzoni nuove e rifatto un po' di materiale, mio e loro e quindi abbiamo deciso di farne un disco, devo dire che sono molto contento di aver realizzato l'album e sono molto curioso di vedere come verrà accolto dalla gente che ci segue e che ci conosce perché è una cosa diversa dal solito Beh comunque voi avete sempre provocato reazioni tra l'altro appunto in un senso e nell'altro ed sarà bello poter vedere anche dopo due anni di pandemia come il pubblico recepisce questa musica ancora e si ha voglia di libertà per davvero Sì, sarò molto curioso di vedere questo effetto Cisco Peanuts, grazie mille davvero, buona musica e presto Grazie Grazie a te, grazie a voi, ciao